Avanti, bloccate la zona! Ricevuto, vai! Padre, scappa la macchina! Te vediamo al solito botto! Date! Grazie! La macchina sta avendo questi che ammazzano! La macchina sta avendo! Grazie! 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 Vela 15 a centrale, ripeto, Vela 15 a centrale mandate un'ambulanza sulla Cassia all'altezza dello svincolo del raccordo anulare fate presto, le auto della zona 5 di intercettare e bloccare forte capri azzurra a combattere ha già causato la morte di un collega di Vela 14, fermatelo a tutti i costi Vela 11 ricevuto Vela 15, fermatelo a tutti i costi Vela 15, fermatelo a tutti i costi Vela 15, fermatelo a tutti i costi